La maggior parte di quelli che cercano di guadagnare soldi nei mercati ma non ce la fanno pensano che le loro problematiche siano legate ai più svariati fattori, quali non sapere quando comprare, non sapere quando vendere, non sapere come trovare i titoli migliori, gestire la propria psicologia, tutte cose sicuramente vere ma che contano fino a un certo punto. Ho superato quel livello quando si parla con i migliori trader e investitori al mondo si scopre che in realtà la caratteristica più importante di un trader e di un investitore è quella di saper prendere delle decisioni ed è questo ciò di cui parleremo in questo video. Bentornato, sono Gian Massimo Zai, fondatore del Trend Positioning Research e autore del libro Trend Positioning che vi vedi qua a fianco. Un libro che spiega la storia dei mercati non dal punto di vista filosofico ma di come si muovono, di quello che è il loro funzionamento in maniera oggettiva al di fuori di quelle che sono le mie opinioni e oggi parleremo appunto della capacità di prendere decisioni per un trader. Ora, in Italia il baseball non è uno sport molto praticato né conosciuto in realtà, ma negli Stati Uniti sì, secondo probabilmente soltanto al football americano, forse l'NBA diciamo che se la giocano lì, non è raro trovare dei paragoni fatti dagli stessi investitori di successo fra quello che è il baseball e quello che sono i mercati. Infatti il baseball viene definito come l'unica attività, l'unico sport al mondo dove si può fare la storia e diventare fra i migliori al mondo avendo quello che viene definito un batting average del 30%, però colpendo la palla il 30% delle volte. Poi colpire la palla vuol dire tante cose nel baseball, non la dire approfondiamo qua, però questo è un po' il punto. Perché viene fatto questo paragone con i mercati, con gli investimenti? Perché negli investimenti, al contrario, i mercati sono l'unico mercato, l'unico business al mondo dove si può guadagnare molto bene, fare molto bene e ottenere successo avendo ragione soltanto 3-4 volte su 10. Ora la politica dei media, dei guru, della formazione vuole raccontarci il contrario, però di fatto, matematicamente parlando, il trading è l'unico business al mondo dove si può guadagnare avendo ragione meno volte di quante sia torto, ok? Ho fatto dei video relativamente al come e perché, si parla di percentuali di guadagno quando le cose vanno bene e percentuali controllate di perdita quando le cose vanno male, ok? E questo matematicamente ci permette di arrivare con il segno più alla fine dell'anno, ok? Il trader invece che cosa vuole? Vuole avere ragione 10 volte su 10, vuole avere ragione tutti i giorni senza conoscere in realtà quali sono le probabilità del mercato. E ovviamente per prendere in considerazione quelle che sono le probabilità del mercato bisogna lavorare in realtà su un'unica abilità. Ted Williams, che è uno dei migliori battitori al mondo, probabilmente il battitore più famoso al mondo insieme a qualche altro, quando aveva deciso di diventare il miglior battitore del baseball sulla faccia della terra, ha iniziato a lavorare più di ogni altra cosa su un'unica abilità, appunto quella di prendere decisioni. Non su come colpire la palla, non se prenderla da destra o da sinistra, non sull'angolazione della mazza, niente di tutto questo. Semplicemente sulla capacità di prendere decisioni migliori. Saper prendere delle decisioni è la capacità numero uno di ogni persona di successo al mondo, nello sport, nel business e negli investimenti, quindi nei mercati. Quindi quando anche i trader prendono, come dire, delle decisioni sbagliate o diventano al contrario, prendono troppe decisioni giuste in un periodo breve di tempo senza capire il perché, succede che diventano troppi sicuri di sé e iniziano a investire su titoli che però non danno le migliori probabilità di successo, ok? Quindi iniziano a ignorare ciò che sanno, ignorare il trend, ignorare quello che il mercato ci sta dicendo e iniziano a diventare impulsivi, ok? E quindi smettono di pensare chiaramente. E smettere di pensare chiaramente vuol dire prendere delle decisioni nocive. Ted Williams ha anche scritto un libro sull'argomento che è un po' come capita tantissime volte in realtà quando mi chiedono qual è il miglior libro sul trading, qual è il miglior film sul trading. Tante volte non sono libri sul trading o sugli investimenti, ovviamente a parte il mio libro, sì, è chiaro, ma in realtà se guardate anche Moneyball, il film di Brad Pitt, dove appunto interpreta Billie Jean, è molto chiaro come se capite che cosa sta succedendo e se capite quello che sono i mercati, qual è la struttura dei mercati e come si muovono i mercati, in realtà il film più bello del trading sul trading è un film che parla di baseball e non parla di mercati. Ed è per questo che in America il paragone è sempre presente. Così lo stesso Ted Williams appunto ha scritto un libro che si chiama The Science of Hitting, non so se esiste in italiano sinceramente, ovvero la scienza del saper battere, il saper colpire la palla. Il libro contiene un'immagine bellissima, molto interessante, che poi è quella che noi spieghiamo anche all'interno del nostro percorso a Raptor, come quella degli outlier, quella delle alte probabilità. Ed è un'immagine dove vediamo Williams alla battuta, in cui la zona di strike alle sue spalle, quindi dove viene lanciata la palla, è delimitata da 77 quadrati. Ciascuno di questi quadrati è delle dimensioni della palla da baseball. Ora, che cosa ha scoperto Williams? è un aspetto molto interessante, che per aumentare le probabilità di fare buone scelte è ovviamente indispensabile riconoscere quando le probabilità sono a nostro favore. Quindi non facciamo una buona scelta sulla base di cosa è giusto o sbagliato, ma sulla base di quante e quali probabilità sono a nostro favore. Quella è una buona scelta. Quindi l'esito in realtà della battuta in questo caso, ma nel caso del mercato, del trading, che è il nostro argomento, non è data dal risultato stesso del trade, ma da quante volte abbiamo preso una decisione basata semplicemente sulle probabilità a nostro favore. Se voi parlate con qualsiasi investitore di successo al mondo, se leggete effettivamente quello che dicono e non vi fermate all'informazione mainstream, da medium, da informazioni che si trovano comunque ovunque, ma che sono più utilizzate per vendere idee e non per dire esattamente quello che chi ha detto quella frase intendeva esattamente, vi rendete conto che nessuno dei migliori investitori al mondo misura a se stesso su quante volte ha ragione o su quanto è cresciuto il titolo che hanno comprato. Quello è il classico misurarsela degli investitori da barra. Loro invece che sanno che prendere delle buone decisioni è tutto ciò che li ha portati al successo e guardate che questa caratteristica è fondamentale. In questo passaggio sanno che saper prendere delle decisioni di un certo tipo e replicarle è ciò che li ha portati al successo misurano se stessi in base al fatto che hanno preso quella decisione per probabilità oppure per ego, ok? Per ego o per paura di perdere un'opportunità. Quello che ha scoperto quindi William, William sai che spiega nel libro, è che se lui avesse aspettato il lancio perfetto nel punto perfetto avrebbe ottenuto successo il 40% delle volte. Ne parlavamo poco fa, il concetto del batting average. Se invece fossero stato impaziente e avesse colpito qualsiasi palla che arrivasse o una palla addirittura che andasse a colpire uno degli angoli inferiori di questo quadrato, di quest'area di battuta, diciamolo così, che non è un quadrato ma è un'area di battuta creata da 77 quadrati, avrebbe avuto soltanto fra il 23 e il 25% di probabilità di successo. Quindi che senso ha preoccuparsi del 23-25% quando sai che invece colpire la palla in quello spazio specifico aumenta il successo del 40% delle volte. E questo è esattamente quello che dovrebbero fare i trader piuttosto che cercare di sparare nel mucchio e comprare di tutto, andare super diversificati con la speranza che qualche cosa andrà bene sapendo che qualcos'altro invece andrà male è proprio la tecnica del leone, quella di aspettare che il branco di gazelle passi per poi attaccare nello specifico una e soltanto una di queste gazelle. il trading non è diverso da questo e anche nel baseball ma ripeto anche nei mercati questa piccola differenza fra il 25% e il 40% delle volte è tutto ciò che fa la differenza fra giocare in una lega di serie B non guadagnare soldi oppure andare nella Hall of Fame. Quindi magari stai pensando in questo momento che ok quindi mi stai dicendo che se colpire la palla il 40% delle volte fa la differenza fra andare nella Hall of Fame quindi diventare il battitore più importante al mondo l'investitore più forte al mondo rispetto al 25% vuol dire che se trovo una strategia che guadagni l'80% delle volte allora vuol dire che ho ragione. No, il concetto non è assolutamente questo anzi è proprio il contrario. Ok? Il concetto è proprio quello di sapere che colpire soltanto quella determinata palla abbassa le probabilità di successo non sono il 100% ma quella determinata zona quella determinata area quel determinato setup quella determinata caratteristica dell'azienda che vado a comprare è quello che mi dà la probabilità di successo il 40% delle volte piuttosto che il 25%. È una differenza sottile me ne rendo conto però cerca di capire qual è il concetto perché poi fa di nuovo tutta la differenza del mondo fra ripetere un concetto a papardella oppure non ripeterlo quindi avere ragione il 100% delle volte non è possibile ma colpire la palla giusta comprare il titolo giusto aumenta le probabilità di successo del 40% delle volte quindi il punto qual è di tutto questo che Williams aveva capito che il processo decisionale che di fatto ci porta a prendere una decisione è fondamentale quindi un processo attenzione alla parola processo aumenta le probabilità di buoni risultati quindi quando possibile in realtà dovremmo sempre cercare di aspettarci delle decisioni che possiamo prendere facilmente nel baseball il primo passo per prendere delle decisioni che possiamo prendere facilmente è decidere di colpire soltanto la palla che arriva all'interno di un'area quindi aspettare un buon lancio nel trading invece potrebbe essere aspettare un buon setup come nel nostro caso noi tradiamo quelli che chiamiamo specific by point e il setup è sempre unico è sempre lo stesso ok c'è sempre il titolo che si comporta in una certa maniera così come nel baseball una volta la palla sarà più forte una volta sarà più debole una volta sarà leggermente più a destra più a sinistra più in alto più in basso ma è sempre all'interno di quell'area perfetta ok non sarà troppo a sinistra non sarà troppo a destra non sarà troppo estremizzata e troppo estrema negli angoli no nel trading è esattamente la stessa maniera quindi il pattern non sarà sempre lo stesso i fondamentali non saranno sempre lo stessi ma un buon setup è formato da tutte queste caratteristiche quindi per noi questo sweet spot come si suol dire è definito da queste caratteristiche specifiche quindi il modo migliore per prendere buone decisioni è ovviamente utilizzare un sistema che ti permetta di sapere quando hai un vantaggio quello che viene definito edge nei mercati quindi un vero vantaggio competitivo quindi anche noi con gli scan per esempio andiamo ad escludere il 90 fra il 97 e il 99 per cento dei titoli quotati quotidianamente ok in base alle situazioni di mercato quando le cose vanno bene ci concentriamo sul 1 per cento dei titoli che stanno sovraperformando e che hanno quelle caratteristiche e quindi sono quella palla che arriva nell'area perfetta quando invece i mercati non sono così brillanti lineari e non stanno andando forte come in altri momenti magari ci concentriamo sul 2 sul 3 per cento perché dobbiamo allargare la possibilità di trovare la palla perfetta in quella situazione ora perché abbiamo messo questo titolo che non è affatto provocatorio legato a Warren Buffett perché anche Warren Buffett in realtà bisogna capire che cosa fa ok Warren Buffett stesso che ha letto il libro di Ted Williams ha applicato questa lezione agli investimenti quindi quello che ti ho detto fino adesso per te dovrebbe diventare di particolare importanza infatti come Buffett spiega e questa ve la leggo letteralmente per come lui l'ha detta è se abbiamo una capacità noi di Berkshire Hathaway è nel riconoscere quando siamo all'interno del nostro ciclo di competenza e quando invece ci stiamo avvicinando al perimetro prevedere l'economia a lungo termine delle aziende che operano in settori in rapida evoluzione è semplicemente ben oltre il nostro perimetro se altri rivendicano capacità preditive in quei settori e sembrano avere affermazioni convalidate dal comportamento del mercato azionario non li invidiamo né li emuliamo invece ci limitiamo a ciò che capiamo se ci allontaniamo lo avremo fatto inadvertitamente non perché siamo diventati irrequieti e abbiamo sostituito la speranza alla razionalità qui dentro c'è il trucco del successo di Warren Buffett che non è quello che vi viene raccontato il trucco di Warren Buffett non è il value investing il trucco di Warren Buffett non è capire quali sono le aziende che cresceranno per i prossimi 40 anni in ambito growth non è prevedere il futuro non è fare niente di diverso da quello che fanno a voi invece vi viene venduto che la capacità di Warren Buffett è quella di prevedere che cosa faranno le aziende nel futuro e quindi il value investing è quello strumento quella strategia che vi permette di diventare Warren Buffett ovviamente questo è totalmente sbagliato Warren Buffett infatti che usa i principi del famoso libro che tutti vorrebbero emulare che è The Intelligent Investor come tattica non come strategia vedremo adesso la differenza fra tattica e strategia però questo è fondamentale quindi Warren Buffett usa i principi del libro che troviamo tutti all'interno di The Intelligent Investor come tattica ma non come strategia ora quella è la sua tattica è quello che lui capisce è quello che lui comprende ma diventa totalmente inutile se quella tattica viene applicata a una strategia diversa e c'è un problema che la strategia di Warren Buffett probabilmente non può essere anzi sicuramente direi non può essere adottata dal 99,99% delle persone altrimenti sarei stato io per primo ad adottarla e ad applicarla ok la sua strategia infatti ok è quella di comprare moltissime azioni di poche aziende con ottimi management e comprare quei titoli che in realtà non sono titoli ma sono aziende attenzione a questa distinzione con una mentalità di lungo termine e qui c'è un'altra bugia perché lui stesso infatti compra e vende azioni in maniera anche molto veloce e per i più svariati motivi ma è l'approccio mentale di comprarle solo se ha senso mantenerle per il lungo termine e questa è una cosa che spiego anche io anche nel nostro gruppo facebook gratuito dove spiego che investire nel lungo termine non è quello che ti viene spiegato dal tuo consulente indipendente finanziario il tuo consulente indipendente finanziario ha lo scopo di farti investire nel lungo termine perché ovviamente guadagna le provisioni nel lungo termine investire nel lungo termine significa utilizzando le parole di Warren Buffett comprare con l'approccio del lungo termine cioè se io oggi compro Tesla perché Tesla ha tutte le caratteristiche secondo la mia tattica secondo le caratteristiche che io cerco in un titolo per crescere per i prossimi dieci anni allora la compro se queste caratteristiche non le ha allora non la compro ma non vuol dire che una volta che compro Tesla la mantengo per dieci anni anche se crolla del 90% guardate che il 99% dei consulenti delle persone che cercano di fare i value investor fanno invece questa cosa qua invece il punto è che io compro Tesla perché ho intenzione eventualmente la mentalità di tenerla per dieci anni ma fra due mesi fra due giorni fra 20 giorni fra 200 giorni fra due anni quello che quello che sarà Tesla per qualche motivo che non ci è dato sapere perché non possiamo prevedere l'economia di quelle aziende nel futuro inizierà a crollare verrà venduta per i più disparati motivi allora non vuol dire che devo tenere Tesla per dieci anni perché mi ero messo in testa che devo comprare Tesla per dieci anni ma l'ho comprata con quella mentalità ma la vendo perché ad un certo punto non ci sono più le condizioni per mantenere Tesla e questo in base al vostro stile alle vostre caratteristiche potrebbe essere due giorni potrebbe essere due mesi potrebbe essere due anni ok quindi Buffett Buffett è vecchio ma è intelligentissimo quindi lo sa che non deve tenere tutti i titoli che compra e che i titoli che compra non saliranno al 100% tutti di 200% 500% 20.000% lo sa benissimo anche lui quindi il suo scopo è trovare il 40% di quei titoli che hanno quelle caratteristiche ok avere ragione appunto queste 4 volte su 10 quindi trovare soltanto i titoli che hanno quelle caratteristiche e concentrarsi su quelli sapendo che avrà ragione probabilmente 4 volte su 10 ok invece quello che ti viene venduto è che devi tenere i titoli in portafoglio per 10 anni senza preoccuparti dei crolli di mercato leggendo The Intelligent Investor ok perché non puoi fare questa cosa è perché se anche trovassi qualcuno che ti spiega come comprare i titoli value titoli sottovalutati o come diversificare avere i titoli in portafoglio delle migliori aziende al mondo perché questa cosa è perdente perché è una truffa legalizzata quando ti viene detto che quando diversifichi diventi azionista delle migliori aziende al mondo perché anche Warren Buffett ti spiega che eccetera eccetera spero che sia chiaro come sia una bugia montata per vendere di più il concetto è invece che quello che Warren Buffett fa è che ti viene venduto come concetto ma non è quello che nessuno nessun altro in realtà può fare per questo dico il 99,99% delle persone è che lui usa la tattica di spiegata in The Intelligent Investor di trovare aziende sottovalutate a beneficio della sua strategia che è appunto quella di comprare moltissime azioni e quindi di comprare parti dell'azienda se tu non capisci che quello che fa Warren Buffett non è fattibile se non compri letteralmente parti importanti dell'azienda che vuol dire percentuali del 3 4 5 per cento dell'azienda ovviamente parliamo di milioni di dollari per ogni investimento in alcuni casi centinaia di milioni di dollari miliardi di dollari in realtà altro che milioni miliardi di dollari ok centinaia di milioni di dollari miliardi di dollari non lo puoi fare Warren Buffett lo ha fatto perché ha iniziato a 14 anni perché ha comprato un'azienda la sua storia è diversa dalla storia del 100% delle persone al mondo ok quindi non siamo qua per parlare di Warren Buffett ma per parlare del fatto che anche Warren Buffett utilizzando le sue parole spiega molto bene come il suo vantaggio non è nella strategia quello è semplicemente la tattica che lui utilizza per dare senso a quello che lui fa nella vita che è comprare aziende tu puoi comprare aziende oggi puoi comprare il 5% di Amazon puoi comprare il 5% di Coca-Cola puoi comprare il 5% di qualsiasi azienda che viene fuori non lo puoi fare quindi non ha senso ma a prescindere da questo se anche lo potessi fare la capacità di Warren Buffett è nel processo decisionale quindi rimanere all'interno del perimetro delle proprie conoscenze di quello che sa fare ok e concentrarsi soltanto su quello l'investitore medio invece cerca di trovare milioni di soluzioni quando i mercati vanno bene milioni di soluzioni diverse quando vanno bene quando vanno male altre soluzioni come invece se lateralizzano senza sapere qual è il suo vantaggio ok quindi sapere che ci sono delle situazioni di mercato dove colpire la palla perfettamente ha assolutamente più senso quindi per concludere quello che ovviamente Buffett non deve fare è preoccuparsi che la palla non finisca negli angoli inferiori perché non gioca a baseball però può letteralmente aspettare appunto il tiro perfetto guardando migliaia di investimenti prima di trovarne uno che sia giusto ok infatti lui legge 6-7 ore al giorno potete leggere 6-7 ore al giorno no avete 14 anni no potete comprare il 2-3-4-5% di un'azienda no quindi decidere di leggere dei intelligenti investor e pensare che quella strategia sia fatta per voi è come guardare un film di Rocco e pensare che di lavoro fate i porno attori ovviamente sono due cose diverse non so come non so come spiegarla però penso che sia capito quindi questo spiega perché poi Buffett a livello di Hall of Fame è conosciuto come il grande il più grande investitore al mondo quindi non è il più capace a trovare le migliori azioni non è il più capace nel trovare i titoli growth non è il più capace nel comprare i minimi di mercato non è il più capace nel prevedere i crolli ci sono persone molto più brave di lui ad avere ragione molte più volte ci sono persone che sono molte più brave di lui a selezionare i titoli specifici ok quello che lui mette quello che viene quello che mette lui nella Hall of Fame degli investitori non solo ma anche dei più righi del mondo è proprio la sua capacità decisionale di focalizzarsi soltanto su caratteristiche ben definite mantenere quei titoli che funzionano per un determinato arco di tempo ok e questo è quindi quello che dovresti fare anche tu per la tua attività ok ho scritto appunto questo libro che è trend positioning per la tua attività di trading ovviamente si intende ho scritto questo libro che è trend positioning dove spiego qual è il nostro approccio per essere nei mercati ormai da dieci anni questo è il quarto credo mercato ribassista che affrontiamo e posso come dire avere l'orgoglio di essere uno dei pochi al mondo oggi che ha superato quattro mercati ribassisti lo abbiamo fatto facendo errori perdendo tanti soldi all'inizio però poi abbiamo creato appunto quel processo che mi permette di eliminare il 99% di quelle palle tirate male che non mi danno la probabilità di successo di cui parla Ted Williams anche nel suo libro se sei curioso di sapere di che cosa si tratta puoi assolutamente comprare il libro troverai il link qua sotto li trovi ovunque in giro puoi raggiungerci nel nostro gruppo gratuito facebook general massimo usai trend positioning research e se ovviamente hai già letto il libro e per te ha senso e hai capito di che cosa stiamo parlando anche con questo video puoi sicuramente richiedere delle informazioni e far parte del nostro team di super studenti e super clienti che ogni giorno battono i mercati e perdono pochissimi soldi anche durante le fasi di mercato come quella attuale la nostra equity line quando dico la nostra equity line parlo dell'equity line condivisa con anche i nostri clienti e i nostri studenti è in positivo per il 2022 nonostante abbiamo mercati che sono crollati fra il 20 e il 35% del Nasdaq e titoli che sono crollati del 50 del 70 dell'80 e del 90% la nostra equity line è invece in positivo praticamente non stiamo perdendo soldi ne stiamo un po' alla volta guadagnando in una situazione di mercato sicuramente molto difficile molto diversa da quella del 2020 e del 2021 e questo ovviamente è motivo per noi di grande orgoglio quindi se ti è piaciuto questo video metti un bel pollicione qua sotto e noi ci vediamo per il prossimo video ciao a tutti e good luck everyone